L'Aventus ha ufficializzato due colpi per l'Under 23, si tratta di Fabrizio Poli ed Emanuele Zuelli, Poli ex Virtus Entella, difensore d'esperienza fuori quota, sostituirà probabilmente al Cibiade, classe 89, giocatore appunto d'esperienza che ha giocato nella Virtus Entella, andiamo dunque anche a aumentare i giri quindi del valore dei giocatori, insomma anche dei fuori quota, qua si prendono giocatori fuori quota già che hanno festeggiato anche promozioni. Emanuele Zuelli invece è un ragazzo del 2001, quindi giovanissimo, che arriva dal Chievo ed è un giocatore molto importante, molto interessante nel panorama giovanile italiano perché oltre ad aver giocato il campionato primavera col Chievo ha già debuttato in Serie B e quindi ha già qualche presenza con i professionisti. Quindi abbiamo preso un difensore d'esperienza e un centrocampista di qualità ma molto giovane ma già con un minimo di esperienza anche nei professionisti. Bella mossa secondo me questa della Juve che deve operare così, ci vogliono in fuori quota se si vuole provare ad andare avanti, a superare certi scogli, però è anche giusto lasciare spazio ai giovani perché i giovani devono assolutamente trainare le squadre. Sono due giocatori molto forti secondo me, due buoni acquisti per l'Under 23 e aspettando se magari ci si sblocca il mercato della prima squadra, che la vedo un po' dura ma l'Under 23 mi sta mettendo su un bel gruppo. Ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video e fino alla fine Forza Juventus.